Gli addetti Veronica Maratesta e Lorenzo Coppelli a essere prima un discorso di cura di 1922 si aggiungono il primo premio per il sessere scoledetto di un'altra parola si addetti Chiara Vincenzo 10-11 anni classe C2 4 coppie per la rinnovazione facciamo un passo in avanti un bel passo in avanti